La Santa Croce è tornata ad imbottigliare l'acqua minerale nello stabilimento di Canistro che quindi ha ripreso la produzione dopo il blocco legato allo stop alla concessione Sant'Antonio Sponga. L'acqua adesso proviene dalla sorgente Fiuggino che è la più piccola del comune marsicano tornata nelle disponibilità della società dopo il contenzioso vinto davanti al TAR contro la regione Abruzzo che invece ne aveva revocato la concessione. Grazie alla ripresa delle attività sono tornati al lavoro sei addetti in una delle tre linee produttive. La società ha riattivato questa sorgente che era un'ulteriore concessione in capo alla società ha ripreso l'imbottigliamento. La società ha chiesto l'utilizzo della sorgente Fiuggino il 12 maggio 2017 dopo che la regione aveva revocato la concessione della sorgente Sponga che ha una portata molto maggiore rispetto a quella della Fiuggino. Ho cercato di coinvolgere ovviamente anche la procura della Repubblica io ripeto non so niente di quello che sta succedendo ho convocato, ho fatto la richiesta anche in asse l'ASL è stata chiamata in causa perché mi dovrà dire come fa a immettere l'acqua di una sorgente all'interno di tubature che erano utilizzate per l'acqua San Antonio Sponga. Per quanto riguarda l'utilizzo della sorgente Fiuggino la regione attraverso la dirigente del servizio risorse del territorio e attività estrative Iris Flacco aveva rispinto l'istanza della Santa Croce emettendo nell'agosto scorso un provvedimento di decadenza della concessione. Bisogna precisare che l'ordinanza cautelare del Tarrabruzzo non autorizza la società Santa Croce ad attingere acqua dalla sorgente Fiuggino ha solo chiesto alla regione di motivare in modo più articolato ed esaustivo il provvedimento di decadenza. Ci sono quindi elementi che possono configurare dei reati ben specifici.